noi siamo considerati morti no, noi non siamo ancora considerati morti cosa vuol dire con questo? io sono morto? io ancora non sono se sono morto come può essere questo? no io sono in vita, sono vivo vuol dire che io vivo giusto come uno scarafaggio vive vivo in uno stato vivo nello stato peggiore possibile ma loro pensano di essere in vita stanno bene e godono di questa vita questo è quello che siamo noi e come possiamo alzarci da questo stato così basso e comincia a sentire da dove noi possiamo prendere nutrimento da dove noi possiamo prendere la nostra vita è quello che tu devi sentire per uscire fuori da questo livello va bene? sì